Regione Toscana, il Consiglio regionale. Modificato nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale lo Statuto di Regione Toscana, che prevede un sottosegretario e sette membri di ufficio di presidenza del Consiglio. Una riforma che è senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, con il via libera all'ordine del giorno che è stato dato dal Partito Democratico, Fratelli d'Italia e Lega, contraria Italia Viva, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Mi ero posto un obiettivo. L'obiettivo era larga condivisione perché le regole del gioco non si cambiano solo con la maggioranza e che non ci fossero aumenti di costo della politica. Ecco, abbiamo raggiunto entrambi i risultati. È vero, c'è stato qualche problema interno alla maggioranza. Io penso alla proposta del collega Scaramelli. Non potesse essere accettata quella del sottosegretario esterno per un solo motivo, perché provocava un aumento di costi. Siccome la strada era un'altra, con fatica abbiamo cercato in queste settimane di arrivare a un punto di sintesi politica la più larga possibile. Questo punto di sintesi è frutto di un accordo istituzionale, lo voglio risottolineare, istituzionale tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni nella maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana e non è chi sarà domani il sottosegretario. A me questo interessa il giusto. A me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta, soprattutto sui temi, quelli più caldi ora, penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore. Esattamente come per l'Ufficio di Presidenza, dove io penso sia giusto che tutte le forze politiche, o quasi tutte o più forze politiche, siano rappresentate. Quella è una sorta di piccola Giunta del Consiglio e a me fa piacere ascoltare il parere di tutti per decidere, come ho fatto sempre in questo anno di mandato, cercando la più ampia condivisione possibile. Il mandato che ho avuto il 19 di ottobre dello scorso anno è che sto cercando di portare avanti nella forma e nella maniera con cui sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale. C'è da dire che il testo da come usciva di Giunta è stato totalmente stravolto. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore né due sottosegretari esterni perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile. Quindi l'abbiamo detto da subito e effettivamente il PD, il Consiglio regionale è venuto sulle posizioni che noi dicevamo quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di Presidenza dando poi la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa ed è anche questo senza costi aggiuntivi e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Certo quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso qualche problema l'hanno avuto abbiamo visto il Presidente di Commissione che poi era quello che doveva fare il non assessore all'inizio della legislatura andarsene arrabbiato decidendo di non votare abbiamo visto Italia Viva che si è spaccata e che ha riproposto di nuovo i due sottosegretari esterni quindi con un costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini quindi la maggioranza non può star proprio serena anche perché mi sembra di capire che la Giunta abbia portato un testo di cui Gianni era molto convinto che infatti non è nemmeno stato illustrato in aula ma che poi il Consiglio glielo abbia stravolto io spero che la Giunta abbia capito che il potere legislativo spetta il Consiglio e che alcune proposte forse è meglio discuterle prima con il Consiglio Sì, ritengo che siamo approdati ad una soluzione che raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure i sottosegretari e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta di un nono assessore per poter lavorare di più e meglio abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso perché quando si vanno a cambiare le regole in questo caso lo Statuto della Regione Toscana è buona prassi e buona norma ricercare il massimo della condivisione il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto scelto tra i consiglieri quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità e su questo c'è stata un'ampia convergenza come abbiamo visto in Consiglio La nostra è stata una posizione di contrarietà l'unica del Consiglio regionale perché riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana dopo 15 modifiche dello Statuto si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani senza un approfondimento senza un passaggio di commissione senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma che noi abbiamo contestato dall'inizio che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo è evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno noi ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si eleggeva un Presidente che poteva nominare 8 assessori 40 erano consiglieri queste erano le regole di ingaggio quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno presi con i cittadini toscani io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro questo statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa in campagna elettorale con i cittadini toscani ho avuto il coraggio e la fermezza di difendere le mie idee al cospetto di un Consiglio che poi legittimamente ha scelto di andare verso un'altra strada ma io confermo la mia contrarietà in questa prima lettura daremo battaglia da qui alla seconda lettura che sarà fra due mesi e continueremo a tenere ferma la nostra posizione Noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio quando ci era stato proposto nove assessori e due sottosegretari esterni che non era la riforma che serviva alla regione toscana semplicemente perché avrebbe aumentato i costi abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio alla Giunta di lavorare meglio a patto che non vi fosse aumento di costi ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello statuto e prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore e sì all'allargamento dell'ufficio di presidenza perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'ufficio di presidenza di tutte le forze politiche naturalmente senza aumento di costo questo nuovo modello organizzativo consentirà alla regione toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente più efficace di lavorare meglio e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani per questo come Forza Italia abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello statuto e ci ha anche un po' sorpreso il dibattito di questi mesi all'interno di tutti i giornali dove c'erano consiglieri regionali di maggioranza che dichiaravano che la riforma avrebbe aumentato i costi che i sottosegretari costavano di più forse semplicemente perché quella riforma non riguardava loro stessi forse semplicemente perché abolendo il non assessore qualcuno che aveva l'ambizione di fare l'assessore oggi non la fa più noi non siamo abituati a fare politica occupando le persone ma siamo abituati a fare politica occupandoci delle persone In uno dei momenti più difficili per la regione toscana e direi per tutto il paese cioè quello dell'emergenza pandemica questa giunta ha fatto presentare in consiglio uno degli atti di cui veramente secondo noi non c'era necessità l'allargamento dell'ufficio di presidenza ad altri due membri e la nomina di un sottosegretario alla giunta addirittura si pensava prima di anche di un altro assessore una moltiplicazione di poltrone che nella visione di qualcuno serve a gestire meglio la regione toscana quando invece questa regione in un momento in cui le infrastrutture sono al collasso le scuole sono in crisi e la sanità è in una fase veramente molto difficile con scioperi continui riteniamo che non abbia bisogno per governare bene serve impegno e soprattutto non serve moltiplicare le poltrone per accontentare probabilmente alcune persone che non sono soddisfatte da quelle che sono state le assegnazioni dello scorso anno quando la giunta è nata allora intanto lo giudico decisamente surreale che abbiamo visto un dibattito che se un osservatore esterno fosse arrivato in consiglio regionale ieri si sarebbe chiesto in quale strana assise è capitato perché abbiamo visto una modifica dello statuto proposta dal presidente della giunta e il presidente della giunta era assente il presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare il vice presidente del consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa questa legge ha subito un percorso anomalo quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula per quanto mi riguarda noi come fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo che le modifiche venissero fatte nell'interesse primo del consiglio regionale e l'allargamento dell'ufficio di presidenza sicuramente va in questa direzione cioè tutela maggiormente il consiglio due a costo zero le reforme sono state fatte a costo zero senza gravare un euro sulla tasca sulle tasche dei cittadini toscani e questo è l'obiettivo conseguito fa sottolineato però perché è doveroso farlo che se ieri il consiglio non avesse emendato la proposta del presidente Gianni il presidente Gianni aveva proposto di istituire due poltrone in più a quelle già esistenti a 7500 euro l'una e credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averle pensate presentato nella sede del consiglio regionale l'atlante digitale dei sentieri d'europa una nuova app che consentirà di percorrere itinerari essendo informati il progetto pilota per il navigatore dei sentieri è stato messo a punto proprio in Toscana e vede protagonista la federazione italiana escursionismo che sarà anche impegnata in Toscana il prossimo 23-24 ottobre nel suo secondo congresso l'atlante digitale dei sentieri d'europa permette di trascorrere in sicurezza e con la disponibilità massima di informazioni la rete dei cammini l'applicazione che si chiama Fiempas è già operativa per la sezione tosco-emiliana del sentiero E1 che parte dal passo dei Due Santi e si conclude dopo ben 408 km al passo di Bocca-Trabaria al confine tra Umbria e Marche è in corso la traduzione in lingua inglese e francese che aumenterà sicuramente i download da parte dei Ramblers europei sono davvero contento di poter ospitare qui questa importante conferenza stampa che si muove esattamente nella linea che abbiamo tracciato in questa legislatura in consiglio regionale cercare sempre più di fare di questo luogo un luogo aperto un luogo d'ascolto un luogo di valorizzazione di tutti i cambiamenti che attraverso le nuove tecnologie e qui presentiamo quelli che sono i sentieri digitali attraverso una app che permettano ai cittadini di poter conoscere meglio il nostro territorio di poterlo vivere in maniera moderna di poter costruire le condizioni perché ognuno si senta sempre più a casa sua nella nostra Toscana un grazie davvero agli organizzatori un grazie alla collega alla presidente Bugetti per aver voluto portare qui nelle sale del consiglio regionale questo momento è davvero che sia la strada a proposito di sentieri giusta da perseguire io ne sono convinto sono onorati di presentare nella sede del palazzo del consiglio regionale il congresso del FIE degli escursionisti perché si aprirà in questa giornata importantissima in un momento che viene dopo il lockdown la pandemia in un momento in cui la stessa regione ha provato anche durante il lockdown a dare una possibilità agli escursionisti a poter ampliare il loro raggio di passeggiate per noi è importantissimo perché specialmente dopo il periodo che abbiamo vissuto c'è stato un recupero un ritorno un'attenzione alle nostre montagne ai nostri percorsi e anche la rete escursionistica europea di cui parleranno in questo congresso per noi vuol dire sviluppo economico vuol dire PIL vuol dire turismo ma vuol dire anche salute quindi è un tema che coniuga tanti aspetti e soprattutto tante associazioni in rete che esistono da tantissimi anni e che fanno quell'azione sociale che ci permette di far scoprire le nostre bellezze è un momento dopo la pandemia di rinnovamento cioè sono stati fatti dei tavoli che hanno lavorato per un anno e mezzo e che stanno definendo quello che sarà il programma per i prossimi cinque anni della Federazione Italiana di Escursionismo è un po' come un'azienda che fa il business plan per il futuro e periodicamente verifica dove siamo arrivati e altro in Toscana il movimento è molto forte abbiamo 37 associazioni e pensiamo con alcune discipline tipo la marcia acquatica e altro coinvolgere tutte quelle associazioni di volontariato che hanno a che fare con il mare circoli nautici eccetera speriamo bene regione toscana il consiglio regionale e anche per i prossimi